queste sono le cose belle di una festa un amico mio carissimo che ha la bancariera dei palloncini sta facendo un omaggio spettacolare per San Pio il lancio dei palloncini, guardate questo significa che chi non ama San Pio chi non vuole questa festa, ve lo facciamo un applauso Milo! il lancio dei palloncini, guardate il lancio dei palloncini, guardate il lancio dei pallonei, guardate la festa è un gol ediziamolo il lancio dei palloncini ma guardate a Varrovi e il lancio dei palloncini guardate ok Grazie a tutti. Grazie a tutti.